Musica Caso Oliviero Toscani, il Consiglio regionale respinge la mozione di Fratelli d'Italia che chiedeva la revoca dell'incarico della regione. Nel mirino le dichiarazioni del fotografo su Giorgia Meloni e i suoi elettori all'indomani del voto del 25 settembre. Trasporto pubblico respinta la mozione per far viaggiare gratis guardie giurate e forze armate. L'atto era stato presentato da Fratelli d'Italia per garantire maggiore sicurezza ai passeggeri. Il PD ha preannunciato una nuova proposta sul tema. Dichiarazioni post voto di Oliviero Toscani, respinta la richiesta di revocare l'incarico della regione al fotografo. Il Consiglio regionale ha respinto a maggioranza una mozione presentata dal consigliere di Fratelli d'Italia Diego Petrucci in cui si chiede la revoca dell'incarico al fotografo Oliviero Toscani. Il motivo è da ricercare nelle dichiarazioni rilasciate da Toscani dopo le consultazioni del 25 settembre sulla presidente di Fratelli d'Italia Giorgia Meloni e sugli elettori che hanno votato a favore del suo partito definiti come deficienti. Di qui la richiesta di immediata revoca dell'incarico assegnato a Toscani da parte della regione nel mese di luglio. Incarico che vede il professionista impegnato nel contesto fotografico La Toscana di Toscani. Campagna promozionale dedicata proprio al turismo femminile e incentrata sulla valorizzazione della figura della donna. Cosa ho provato quando ho capito che Meloni avrebbe vinto? Veramente non sapevo se era Vanna Marchio o la Meloni. Urla, strabuzza gli occhi pitturati di blu, mostra le unghie rosse. Direi che è abbastanza volgare. Gli italiani che l'hanno votata? Quando la maggioranza è cogliona hai una democrazia cogliona. Gli italiani che hanno votato Giorgia Meloni sono deficienti per me. Queste sono le parole con cui Oliviero Toscani ha commentato le elezioni politiche del 25 settembre. Gravi in assoluto, gravi a maggior ragione nel momento in cui Oliviero Toscani è stato incaricato dalla regione toscana di fare una campagna alla Toscana di Toscani all'interno di Benvenute in Toscana per attrarre il pubblico femminile nella nostra regione. Evidentemente le due cose stridono, evidentemente questa cosa è gravissima per cui oggi come Fratelli d'Italia abbiamo presentato una mozione in Consiglio regionale chiedendo intanto di condannare le gravi esternazioni di Oliviero Toscani e poi di revocargli l'incarico profumatamente pagato per fare questa campagna pubblicitaria. In realtà noi ringraziamo come gruppo di Fratelli d'Italia il voto compatto del centro-destra ma ringraziamo anche il Movimento 5 Stelle e Italia Viva che hanno votato a favore la nostra mozione. Ci dispiace prendere atto, ma veramente non è una dispiacere strumentale, ci dispiace prendere atto del voto contrario alla revoca dell'incarico da parte del Partito Democratico. La maggioranza si è spaccata ancora una volta, Italia Viva ha votato in maniera obiettiva, il Partito Democratico difende l'indifendibile arrabbicandosi sugli specchi, oltretutto il silenzio di tutte le colleghe del PD nel dibattito di oggi ci dispiace e ci lascia amareggiati. Contrari alla mozione i consiglieri del Partito Democratico hanno invece votato a favore tutti i gruppi di opposizione e il capogruppo di Italia Viva Stefano Scaramelli. Io ho votato a favore perché ritengo che sia indecoroso quello che è stato detto e quindi la regione toscana deve prendere un provvedimento perché il rispetto nei confronti delle persone, in primis di una donna, deve essere da parte di tutti e soprattutto quando si ha un incarico a livello regionale e questo è molto grave quanto è successo, c'è un'offesa nei confronti anche dei cittadini che sono degli elettori che non possono essere appunto denominati così come sono stati appunto considerati in quella definizione e come tale la mia posizione è stata in coerenza con tutte quelle che abbiamo espresso come Consiglio regionale e nel prendere le distanze da queste dichiarazioni è un metodo che deve essere lontano dalla cultura dei principi della regione toscana. Abbiamo votato a favore di questa mozione perché riteniamo che non ci sia niente di più inaccettabile quando si intende fare la morale o dare l'esempio dei due pesi e delle due misure. Giustamente il Partito Democratico si indigna quando vengono offese dalle esponenti del suo partito o di altri partiti a loro vicini se vengono insultati. Non si capisce perché questo debba essere accettato quando essere insultati o vilipese sono le esponenti donne ma io metto anche uomini di altri partiti politici specialmente se sono rivolti dall'altra parte dell'arco parlamentare ma chiunque essi siano. Noi riteniamo invece che la difesa dell'immagine e della dignità delle persone donne e uomini, lo ribadisco, debba essere assolutamente trasversale e che la regione debba dare il buon esempio e non utilizzare come testimonio o comunque sia dare degli incarichi a delle persone che legittimamente come personaggi pubblici esprimono la loro opinione che però non può essere condivisa e non ci deve essere accostamento come la regione toscana. Indubbiamente è una mozione che ho condiviso soprattutto perché il dottor Toscani non è estraneo e ha delle esternazioni assolutamente pesanti e inopportune. Questa volta queste sue esternazioni non solo si sono connotate in modo estremamente forte nei confronti della leader di Fratelli d'Italia e quindi connotate di un certo sessismo ma ricordiamo anche le affermazioni gravi su quanto è accaduto sul ponte Morandi. Noi riteniamo che questa figura non possa essere collegata alla regione toscana e tantomeno avere incarichi retribuiti. Si parla di 35 mila euro per una campagna che tra l'altro avrebbe dovuto promuovere le figure femminili bentornate in Toscana. Ecco, francamente ci sembra alquanto inopportuno non revocare l'incarico alla luce appunto di dichiarazioni che sono assolutamente pesanti e che certamente non sono condivisibili ma che ci aspettavamo fossero stigmatizzate e condannate anche dalla maggioranza. Così Francesco Gazzetti del PD difende la linea tenuta dal partito in aula. Noi abbiamo trovato quell'atto, un atto condizionato da un pregiudizio che è quello, il pregiudizio nei confronti di Oliviero Toscani che come tutte le persone di questo mondo ovviamente può esprimere le proprie valutazioni. Noi tra l'altro a fronte dell'atto abbiamo proposto, proprio per, come dire, sgombrare il campo dal rischio che fosse davvero interpretabile come un pregiudizio a priori nei confronti di Toscani, di separare le due parti. Cioè noi eravamo assolutamente disponibili a esprimere ferma condanna rispetto alle dichiarazioni di Toscani nei confronti della Presidente Meloni. Ci mancherebbe altro. Sul tema della revoca dell'incarico ci è sembrato ovviamente appunto un atto strumentale. Noi eravamo pienamente disponibili. Questa proposta è stata rifiutata. Riteniamo che ovviamente su questi temi si debba sempre cercare di trovare il più ampio consenso e soprattutto la più ampia convergenza noi avevamo dato piena disponibilità affinché si arrivasse a questo obiettivo. Probabilmente dovrebbe da dire un osservatore esterno che la finalità magari dell'atto era un'altra e quindi su questo l'indisponibilità di chi ha presentato l'atto è stata totale. Trasporto pubblico e sicurezza a bordo dei mezzi bocciata la mozione per far viaggiare gratis guardie giurate e forze armate. È stata respinta dall'Aula una mozione firmata dai consiglieri di Fratelli d'Italia Gabriele Veneri, Francesco Torselli e Alessandro Capecchi per garantire la gratuità dei servizi pubblici di trasporto per i corpi di vigilanza privata purché indossino la divisa d'ordinanza. Come ha spiegato Veneri illustrando l'atto emendato in alcuni punti al centro dell'attenzione c'era la preoccupante crescita di episodi di criminalità, vandalismo e delinquenza sui mezzi pubblici toscani. La mozione ribadiva dunque l'importanza della presenza dei membri delle forze armate e delle guardie giurate indivisa nei mezzi pubblici come veicoli per scoraggiare la delinquenza e la violenza e impegnava la Giunta a confrontarsi con i gestori per rendere appunto gratuito l'uso dei servizi di pubblico trasporto per i membri delle forze armate e per la categoria dei corpi di vigilanza privata purché indossino la divisa di ordinanza del corpo o istituto di appartenenza. Un emendamento presentato dal gruppo PD che chiedeva un intervento presso il Governo nazionale per attivare un fondo a favore delle regioni a questo scopo non è stato accettato dai firmatari della mozione. A questo punto il PD ha dichiarato voto contrario e l'atto è stato dunque respinto dalla maggioranza con 21 voti contrari, 13 favorevoli e 0 astenuti. Oggi si è persa una grande occasione di risolvere un problema che affligge coloro che utilizzano il sistema del trasporto pubblico toscano sia su ferro che su ruota e che è il tema della sicurezza un tema che è da tanto tempo denunciato appunto da chi utilizza questi mezzi di trasporto principalmente sono giovani, sono disabili, sono donne o persone anziane che vengono derubate, scippate, violentate e noi avevamo fatto una proposta di avvicinare chi gestisce il trasporto pubblico con chi si occupa di sicurezza nella nostra regione e in questo caso sia le forze di polizia provinciale che le guardie giurate alla condizione che viaggiassero in divisa. Purtroppo oggi il PD ha confermato questa incapacità di cogliere le idee a costo zero perché il PD purtroppo è capace solamente a spendere e a bruciare risorse pubbliche e ha portato un emendamento che a parer nostro era irricevibile. Mentre noi dicevamo che la regione toscana che è l'organo competente alla gestione del trasporto pubblico doveva organizzare un tavolo per mettere d'accordo il gestore con chi fa sicurezza in Italia e a costo zero farli viaggiare gratuitamente per essere come detenzione nel trasporto pubblico il PD ha fatto un emendamento perché ora è una classica mossa quella di impegnare il governo a inserire delle nuove risorse quindi a spendere nuovi soldi per una cosa che secondo noi invece poteva essere totalmente gratuita. Questa purtroppo sarà una prassi dei prossimi mesi hanno già iniziato a farlo, ancora il governo non è formato e già loro vogliono impegnarlo su cose che noi non siamo ancora in grado di impegnare comunque è peccato perché si è persa un'occasione per risolvere un problema a costo zero e il PD in questo è il numero uno a fare i bilanci in rosso e a non risolvere i problemi. Fausto Merlotti del PD ha spiegato che l'intervento del governo per istituire un fondo che possa ristorare i gestori per i minori introiti è necessario e che il PD presenterà al più presto una nuova mozione sull'argomento considerato di grande interesse e attualità. Noi rispetto a questa mozione abbiamo presentato una serie di emendamenti e in narrativa sostitutivi o soppressivi e nell'impegnativa che il collega Veneri ha dichiarato anche in aula accettare per il 99% salvo le ultime due righe con le quali noi chiedevamo di attivarsi nei confronti del governo perché si desse vita ad un fondo nazionale che consentisse alle regioni di poter ristorare questi mancati introiti ai diversi gestori. Per capirsi si ragiona di 450 mila euro, 500 mila euro l'anno che la regione toscana ad esempio ristora ai gestori di trasporto pubblico locale per poter consentire alle forze dell'ordine di poter viaggiare sui mezzi di trasporto pubblico locale. Questa è una cosa che ci sta molto molto a cuore e proprio per questo ho annunciato in aula che presenteremo una mozione nostra come gruppo del Partito Democratico e di maggioranza che governa la regione toscana affinché si riprendano quegli emendamenti presentati e ripeto per il 99% accettati dal proponente collega Veneri ma comprensivo anche della richiesta legittima non fuori luogo di chiedere al governo di impegnarsi nei confronti delle regioni che hanno questo genere di convenzioni. Ripeto, la Toscana è dal 1998 che ha questa convenzione perché a noi la sicurezza sui mezzi di trasporto pubblico sta molto molto a cuore e quindi con forza chiediamo di istituire questo fondo che ci consente di allargare la platea degli usufruenti la convenzione già in essere anche ai corpi di vigilanza privata anche agli uomini e le donne della guardia costiera anche agli uomini e le donne della polizia municipale a tutti quei soggetti che con loro presenza o in divisa o in borghese purché dichiarandosi al controllore o al personale di bordo della loro presenza garantiscano la possibilità di poter intervenire laddove ce ne fosse assolutamente necessità. Ripeto, una mozione e gli emendamenti di buonsenso che oggettivamente pensavo e pensavamo che il gruppo del Partito Democratico come immaginanza i proponenti potessero accettare. Evidentemente non è così evidentemente non hanno a cuore la sicurezza dei nostri concittadini evidentemente siamo già nel gioco della parte politica per cui non si può chiedere al governo nascente a guida centro-destra di poter intervenire finanziariamente laddove ce ne fosse bisogno anche su temi che sulla carta sono cari al centro-destra ma non è così quali quelli legati alla sicurezza. La sicurezza è un tema che riguarda tutti e che il centro-sinistra e il Partito Democratico ha molto molto a cuore. Marco Stella di Forza Italia ha espresso infine il proprio dispiacere per non essere arrivati all'approvazione del documento. Era una proposta di buonsenso quella di dare la possibilità agli appartenenti delle forze dell'ordine di usufruire dei mezzi pubblici gratuiti naturalmente quando sono in divisa per andare o uscire dal lavoro lo fanno già molte regioni lo fa la regione Lombardia lo fa la regione Abruzzo lo fa la regione Campania lo fa la regione Sicilia oggi abbiamo scoperto che il Partito Democratico è contro le forze dell'ordine era di buonsenso per una serie di motivi il primo fra l'altro per garantire la sicurezza sui mezzi di trasporto sui treni, sugli autobus sul trasporto di linea, sul TPL pubblico per i cittadini che montano sull'autobus e che molte volte si trovano stagio di borseggiatori magari di piccola delinquenza di piccola criminalità avere la presenza delle forze dell'ordine in divisa sul trasporto pubblico è un deterrente per chi vuole delinquere guardate ci è stato detto non lo possiamo fare perché costa a prescindere dal fatto che la sicurezza per il centrodestra e per Forza Italia non è mai un costo ma è una cosa che noi dobbiamo garantire ai nostri cittadini e l'elemento che abbiamo detto è ma se è un costo recuperate l'evasione dai biglietti noi abbiamo il 24% di persone che salgono su un treno che salgono su un pullman che salgono sul trasporto pubblico che non pagano il biglietto basterebbe recuperare quella schifra lì per garantire di viaggiare gratis agli appartenenti delle forze dell'ordine e di far viaggiare sicuri i cittadini che scelgono il trasporto pubblico e di far viaggiare sicuri